benvenuti amici questa è l'interfaccia di photoshop che conosciamo bene tutti qui abbiamo come vedete un'immagine con un bellissimo pomodoro fotografato su sfondo bianco nel momento in cui apriamo un nuovo file in photoshop abbiamo quasi sempre questa configurazione all'interno della tab dei livelli abbiamo un singolo livello che si chiama sfondo o background e ce l'abbiamo bloccato con il lucchetto quindi la prima cosa che facciamo è che andiamo a sbloccarlo basta cliccare sul lucchetto e ora il nostro livello è sbloccato nel momento in cui andiamo a spegnerlo vediamo che questo è il modo in cui photoshop ci mostra il nulla secondo photoshop questi quadratini sono il nulla è il suo modo di dirci che in questo punto dell'immagine non esistono informazioni visibili se io salvassi l'informazione con questo livello spento io otterrei un'immagine vuota io vado a riattivare il mio livello e ora invece la vedo non vedo più il nulla quindi in questo momento io ho un'immagine visibile in questo momento io ho un'immagine disattivata le maschere servono a ottenere esattamente la stessa cosa nel senso che una maschera serve a rivelare parte dell'immagine nascondendone un'altra parte avendo io fatto una selezione posso andare ad applicare una maschera la maschera si attiva con questo bottone aggiungi maschera di livello e vedete che parte della mia immagine sarà visibile e parte invece sarà invisibile in questo punto dell'immagine photoshop con questi quadratini mi sta segnalando che qui l'immagine non è visibile quindi qui c'è il nulla qui non ci sono informazioni se avessimo più immagini impilate in questo punto io vedrei l'immagine sotto per cui vediamo che se io vado a creare un livello di colore per esempio lo vado a mettere se lo vado a mettere sopra vedo solo quello perché sta in cima e quindi comanda lui se lo vado a mettere sotto ecco che il mio livello è visibile solamente dove attiva la maschera di livello quindi in questo caso vediamo che il bianco serve a farci vedere questa parte dell'immagine mentre il nero serve a nascondersela se io tengo premuto alt opzione e clicco sulla maschera mi passa in modalità visualizzazione della maschera e vedo esattamente la maschera che cosa sta facendo la maschera è connessa al nostro livello tramite questa catena che cosa significa significa che nel momento in cui io seleziono sospendiamo questo livello nel momento in cui io seleziono la mia immagine e la trascino la maschera si muove insieme quindi il rapporto tra il posizionamento della mia immagine della maschera rimarrà stabile se io vado a togliere questo collegamento tuttavia posso prendere la mia maschera e spostarla indipendentemente dalla mia immagine se ho selezionato la maschera oppure posso prendere l'immagine e spostarla indipendentemente dalla maschera molto interessante e molto utile adesso lo stiamo facendo su un pomodoro per cui è difficile vederne l'utilità ma sono sicuro che già riuscite a scorgere le implicazioni pratiche di questa cosa che cosa succede per esempio se io voglio prendere un oggetto e farlo sparire parzialmente dietro a questo pomodoro creiamo una forma vettoriale in maniera assolutamente casuale e arbitraria in questo momento vedete che sta sopra il mio pomodoro se la metto sotto sta sotto al mio pomodoro per cui è evidente che ci troviamo di fronte a un bel dilemma come faccio io a nascondere parte di questa immagine dietro al mio pomodoro beh è evidente che dovrò ricorrere a una maschera di livello per cui la prima cosa che faccio è questo è assolutamente arbitrario si può usare il metodo di selezione che più vi piace in questo caso io credo che utilizzerò color range e andrò a selezionare il bianco selezione già praticamente fatta molto semplice vado a selezionare a questo punto ho una selezione fatta quindi attivo il livello su cui voglio effettivamente applicare la maschera e l'attivo vedete che quello che è successo è che la mia maschera gli sta dicendo di mostrarmi le aree bianche e di nascondermi le aree nere per cui il mio oggetto finisce dietro al pomodoro adesso qui sarebbe da rifinire la selezione ovviamente perché non l'ho fatta bene però a livello dimostrativo quello che succede è che abbiamo nascosto la parte del nostro oggetto che corrisponde alla selezione che avevamo fatto quindi a parte del nostro pomodoro ora io ovviamente posso togliere la catena e a questo punto posso prendere il mio oggetto che scorre liberamente dietro al pomodoro vedete non è neanche venuta malissimo come selezione per essere fatta così al volo l'unica parte in cui non è venuta bene è qui dove ci sono delle ombre le ombre sono di un colore e di un'intensità luminosa diversa e quindi non sono state selezionate correttamente ma vedete che per tutto il resto la maschera funziona perfettamente per cui abbiamo il nostro oggetto che sta dietro al pomodoro ora nel momento in cui io dovessi andare a premere di nuovo alt sulla mia maschera vedo la maschera esattamente che cosa sta facendo vedo quali sono le aree nere le aree bianche e anche le aree grigie perché abbiamo un'intensità di mascheratura diversa a seconda dell'intensità del bianco e del nero nel momento in cui io invece vado a premere shift e clicco sulla mia maschera vedete che passo da modalità attiva a modalità disattiva così posso vedere com'è il mio livello senza la maschera e poi vederlo invece con la maschera attiva andiamo a vedere che cosa succederebbe se volessimo fare una maschera di questo pomodoro nuovamente io andrei a selezionare color range andrei a selezionare il bianco col contagocce plus potrei anche cercare di essere più preciso e andare a escludere un pochettino di ombre perché il pomodoro è rosso e quindi forse riesco a tirare via un pochettino di più di quest'ombra ok diciamo che sono quasi soddisfatto ok così dovremmo esserci facciamo finta che vada bene a questo punto abbiamo una selezione che facciamo finta che ci vada veramente bene poi sicuramente ci saranno delle cose da migliorare qui nelle ombre però facciamo finta facciamo finta che sia corretta così com'è nel momento in cui abbiamo la nostra selezione e la potete fare ripeto col metodo che preferite abbiamo tanti modi di azionare la nostra maschera possiamo andare qui sul livello e abbiamo una sezione dedicata alla maschera abbiamo una serie di opzioni abbiamo reveal selection che è quella di cui io ho impostato questo comando veloce da tastiera che mi serve nel momento in cui voglio andare a fare questo voglio andare a prendere la sezione che avevo selezionato quindi avevo selezionato il bianco e quindi mi sta nascondendo il pomodoro e mostrando il bianco però non è la cosa migliore da fare in questo caso perché qui ho selezionato il bianco io invece voglio vedere il pomodoro non il bianco per cui quello che posso andare a fare è che posso andare a dirgli nascondi selezione quindi ho selezionato il bianco voglio nascondere il bianco quindi nascondi selezione e lui mi crea una maschera invertita ora questa cosa la possiamo fare anche a mano in qualsiasi momento nel senso che se io ho una maschera attiva e premo command i quello che succede è che inverto la maschera questo è un comando che funziona anche sulle immagini e attenzione se io ho selezionato un'immagine premo command i quello che faccio è che vado a fare il negativo di questa immagine la stessa cosa succede sulle maschere quindi nel momento in cui ho una maschera attiva sul mio livello io posso premere command i e il bianco diventerà nero il nero diventerà bianco il grigio 50 per cento rimarrà grigio 50 per cento ora una cosa interessante delle maschere è che si lavora non solo col bianco e nero bianco e nero e codice binario puro quindi nel momento in cui abbiamo nero cento per cento nero cento per cento corrisponderà a una selezione nascosta completamente invisibile nel momento in cui io vado a utilizzare il nero cento per cento per esempio per pitturare su un'area le maschere sono spesso abbinate agli strumenti di disegno nel momento in cui io aziono una maschera questo momento è bianca e vado a pitturare vedete che quello che succede è che qui compaiono le mie pennellate nell'anteprima del foglio di calcolo della maschera non dell'immagine e l'effetto che abbiamo sull'immagine è che viene cancellata questa parte vedete che se io vado a pitturare sull'immagine è diverso il risultato perché qui sto effettivamente aggiungendo del nero alla mia immagine infatti qui lo vedo qui non ho aggiunto del nero ho semplicemente detto alla mia maschera che queste aree pitturate devono essere invisibili nell'immagine finale tutto questo è molto utile quando si vogliono fare dei composite delle composizioni delle manipolazioni ovviamente perché ci permettono di mascherare delle parti dell'immagine in maniera non distruttiva io potrei benissimo ottenere questo stesso risultato con la gomma vedete cosa succede se io pennello con la gomma esattamente la stessa cosa il risultato finale è esattamente lo stesso e vedete che qui in anteprima io vedo l'anteprima del fatto che ho cancellato quest'area ma qual è la differenza che con la gomma adesso torno indietro la differenza è che con la gomma questa modifica è distruttiva è permanente io qui vedete che se tengo premuto command e clicco seleziono i pixel esistenti vedete che quest'area non viene selezionata perché qui non esistono più dei pixel qui sono stati cancellati in maniera definitiva se invece io vado con un pennello ad agire su una maschera faccio la stessa cosa ma vedete che i pixel esistenti comprendono ancora l'intero quadro e infatti io se disattivo la maschera posso vederli ancora questi pixel andiamo a vederlo sul pomodoro per capire meglio se io ho cancellato quest'area del pomodoro e la voglio recuperare in realtà non l'ho mai cancellata l'ho solo nascosta questo si chiama lavorare in maniera non distruttiva è molto utile quando si fanno dei lavori lunghi e complicati lavorare in maniera non distruttiva perché ci permette nel caso avessimo commesso un errore di recuperarlo nel momento in cui io vado a pitturare con il colore opposto recupero quella che era l'immagine di partenza ho pitturato con il nero per nascondere l'immagine adesso vado a pitturare con il bianco e la recupero pitturare usare un qualunque strumento di disegno o di inserimento colore per esempio se dovessi andare a premere ho selezionato la mia maschera attenzione bene attenzione sempre a selezionare la maschera e non l'immagine se no pitturiamo sull'immagine se ho selezionato la mia maschera e vado a premere option delete in questo momento ho selezionato il bianco come colore di primo piano e vediamo che option delete mi riempie la mia maschera di bianco questo è un comando standard proprio come command d nel momento in cui io premo option delete avendo selezionata la mia immagine vediamo che è diventata tutta nera la mia immagine perché ora ho come colore di primo piano il nero e ho riempito di nero tutto il quadro se vado a fare l'opposto ovvero vado a selezionare la mia maschera e ho il nero come colore di primo piano e premo option delete vedete che ho riempito di nero la mia maschera e quindi l'immagine è completamente nascosta se faccio command d inverto la maschera e la mia immagine è di nuovo pienamente visibile ora la cosa molto interessante delle maschere fin qui vi ho fatto vedere come si può lavorare con bianco 100% e nero 100% per cui abbiamo 000 e fff nel momento in cui andassimo a lavorare con dei grigi però otterremo degli effetti intermedi il modo migliore per capire di cosa sto parlando è utilizzare un gradiente utilizziamo un gradiente dal nero 100% al bianco 100% nel momento in cui andiamo a cliccare trascinare abbiamo creato un gradiente vedete che qui abbiamo l'anteprima del gradiente se io tengo premuto alt option e clicco vedo esattamente dove è nero e dove è bianco il mio gradiente se guardo la mia immagine vedo che qui le informazioni sono completamente assenti qui le informazioni nel centro sono al 50% e si avviano gradualmente seguendo il gradiente ad arrivare di nuovo al 100% posso fare dei gradienti più piccoli e quindi avrò una transizione più netta oppure dei gradienti più lunghi e avrò una transizione meno marcata e più morbida questo è molto utile nel momento in cui si vogliono fare delle manipolazioni perché nel momento in cui e premo command delete così riempio con il bianco nel momento in cui io voglio andare a mascherare delle aree possono esserci delle aree molto nette come nel caso del pomodoro ma possono esserci delle aree di mezzitoni come nel caso per esempio di questo pomodoro che come vedete va a sfumare qui io potrei innanzitutto diminuire l'intensità del mio pennello ma poi potrei anche diminuirne l'opacità oppure andare a lavorare invece che col nero con un grigio per esempio io potrei lavorare con un grigio 50% e le modifiche che io andrò a fare non cancelleranno più completamente quello che io sto andando a pennellare ma lo renderanno parzialmente invisibile una cosa estremamente interessante è che le maschere possono essere applicate a qualunque cosa possono essere applicate a un'immagine possono essere applicate anche a un livello di regolazione quando noi apriamo un livello di regolazione vediamo che di default ha già una maschera attiva per cui io potrei aprire un livello di regolazione fare le mie modifiche e poi potrei dirgli che voglio quelle modifiche attive solamente su metà dell'immagine o solamente in alcuni punti dell'immagine per esempio soltanto sulla fogliolina io posso selettivamente con il pennello andargli a dire dove voglio che questa maschera sia attiva la maschera sarà attiva solamente nelle aree bianche per cui questo livello di regolazione avrà effetto solamente nelle aree su cui ho pitturato ho cambiato idea lo voglio rifare non faccio altro che prendere uno strumento di disegno come il mio pennello e vado a cancellare quello che ho sbagliato a fare la mia immagine originale è sempre qui sotto il mio livello di regolazione è sempre qui ed è sempre in mutato questo è un metodo di lavoro non distruttivo è particolarmente utile quando si vanno a realizzare dei composite molto complessi perché in quel caso vi assicuro che l'ultima cosa che vogliamo fare è distruggere le informazioni presenti all'interno delle nostre immagini esempio molto molto pratico qui abbiamo questa fotografia questa queste due fotografie in realtà realizzate per un musicista abbiamo qui due personaggi che sono stati scontornati per cui abbiamo qui una serie di livelli abbiamo un gruppo dentro cui sono presenti i due personaggi e come vedete ognuno di loro ha una maschera quindi abbiamo una maschera per il primo personaggio una maschera per il secondo personaggio se io disattivo le maschere vedo di nuovo il backdrop che avevo messo dietro a queste due figure per fotografarle nel momento in cui io riattivo le maschere il backdrop sparisce e abbiamo il mio sfondo che è un gradiente da blu a nero che ho posizionato dietro come non mi stancherò mai di ripetere il metodo che scegliete per scontornare è assolutamente a far vostro io consiglio di usare quasi sempre lo strumento penna in questo modo le selezioni vengono meglio le maschere vengono meglio e gli artwork vengono meglio in questo momento noi stiamo guardando la selezione che ho realizzato con la penna per scontornare questa figura è una selezione molto precisa essendo fatta con la penna che lascia molto poco al caso e quindi ci dà dei contorni molto netti cosa interessante delle maschere di livello è che facendo doppio clic sulla maschera ho una serie di opzioni ho innanzitutto il feder ovvero la sfumatura quindi io posso decidere che la maschera deve avere una sfumatura sui suoi contorni quindi non la voglio più netta ma voglio che sfumi molto delicatamente da un'area visibile a una invisibile ovviamente dobbiamo decidere se questo sia il caso oppure no in questo caso evidentemente non lo è in questo caso noi vogliamo i contorni abbastanza netti perché la fotografia è molto a fuoco non ci sono praticamente aree fuori fuoco quindi voglio un paio di pixel di sfocatura ma non di più se io vado ad aumentarli vediamo che la mia immagine comincia ad avere una sfumatura molto invasiva questa cosa va bene nel caso in cui stiamo facendo delle manipolazioni con degli sfondi e vogliamo simulare dei gradienti non va bene nel caso in cui vogliamo avere dei contorni netti in quel caso è meglio tenere il feder molto basso abbiamo poi una densità la densità di default è sempre al 100% nel momento in cui io l'abbasso sto riportando indietro quello che avevo cancellato e vedete infatti che la mia maschera corrisponde nel senso che si adegua perché se io la tengo al 100% lo sfondo è nero quindi abbiamo una parte visibile che è bianca una parte completamente invisibile che è nera nel momento in cui io comincio ad andare verso il 50% ok qui siamo a 50% e qui avremo uno sfondo trasparente al 50% e qui abbiamo uno sfondo al grigio 50% se vado al 18% avremo uno sfondo che sarà molto presente e abbiamo qui nell'anteprima uno sfondino che è grigio 18% ovviamente se porto la densità della maschera a zero con densità zero la maschera è come se fosse inattiva infatti è completamente bianca sono tutte cose che è bene sapere perché ogni tanto tornano utili non si usano molto spesso sono per casi particolari però ci danno una grandissima libertà espressiva nel momento in cui lavoriamo con delle immagini scontornate ci danno infatti la libertà di decidere che tipo di contorno vogliamo e come si deve comportare questo contorno rispetto all'immagine che sta dietro spero con questo video introduttivo di avervi dato un'idea a grandi linee di quello che è possibile fare con le maschere di livello tenete sempre conto che una maschera di livello mostrerà quello che è bianco nell'anteprima e nasconderà quello che è nero questo sempre in tutti i casi nel momento in cui vogliamo invertire una maschera è sufficiente selezionarla e premere comandi o controlli se lavorate su windows e quello che succede è che abbiamo fatto esattamente il contrario di prima ovvero l'area che era bianca è diventata nera e quindi avremo il backdrop visibile e il nostro personaggio completamente forato se vogliamo tornare indietro di nuovo comandi quest'opzione non è distruttiva può essere eseguita tutte le volte che volete lavorare con le maschere non è un procedimento distruttivo infatti le maschere possono essere fatte e rifatte cento volte sono uno strumento di indubbia efficacia per realizzare artwork di questo tipo e sono assolutamente indispensabili se pensate di lavorare seriamente con photoshop bene io mi auguro come sempre che questo video vi sia stato utile e che vi abbia chiarito alcuni dubbi che potevate avere su quello che è l'utilizzo delle maschere di livello all'interno di photoshop vi invito a questo punto a lasciarmi un commento se ho secondo voi tralasciato qualche aspetto che vorreste vedere approfondito in un prossimo video vi invito a seguirmi perché altrimenti come farete a sapere se ho fatto il video che mi avete richiesto e perché no lasciate anche un like a questo video in fin dei conti lo so che avete imparato qualcosa un po' di chiudere